Ancora un brutto episodio sulla statale M16, una giovane vita spezzata da un incidente. Lei, sindaco, ha chiesto al prefetto un incontro per intensificare i controlli sulla statale 16 adriatica. Sì, intanto una grande tristezza a un ragazzo di 25 anni. Una giornata di festa, una domenica di sole, purtroppo segnata da questo grave lutto. Io sono stato, proprio qualche minuto dopo, e mi sono reso conto che sulla statale 16 adriatica c'è necessità di intensificare i controlli, anche con la misurazione elettronica della velocità, come hanno fatto un po' tutti i comuni costieri. Ho scritto al prefetto, mi sono appellato alla sua grande sensibilità del prefetto di Chieti, per verificare con lui come intensificare il controllo. Intanto stiamo definendo l'assunzione di altri agenti di polizia locale, che disporrò per la loro presenza sull'adriatica. Purtroppo siamo la terza vittima, dall'anno scorso ad oggi, nel territorio che attraversa appunto Fossa Cese, la statale 16 adriatica. Ci sarà la possibilità anche di lavorare, non so, per mettere dei dissuasori di velocità, delle nuove rotonde? Devo dar atto all'ANAS per la disponibilità, in un paese in cui purtroppo l'amministrazione pubblica fa acqua in molte parti, l'ANAS ha dato disponibilità massima. Adesso per i dissuasori dobbiamo vedere perché è una statale adriatica e spetta comunque all'ANAS. Le rotonde sono in costruzione, una a San Vito, una a Fossa Cese, sia proprio nei pressi dove è successo questo ultimo incidente stradale, per il traffico che arriva dalla Fondo Valle Sangro. La Fondo Valle Sangro, tra l'altro, un anno o due anni aprirà il collegamento est-ovest, quindi ci sarà un afflusso maggiore sulla costa dei Trabocchi e vedremo in questa riunione quali potranno essere gli accorgimenti che serviranno per garantire maggiore tranquillità sulla statale 16 adriatica. però rinnovo l'appello a tutti, la velocità deve essere moderata e anche l'uso dell'apparecchio telefonico.